Il lampeggio luminoso è un ricordo rimasto nell'album delle festività natalizie. L'incrocio semaforico tra via Violante, via Parrilli, via Regina Margherita e via Foggia, crocevia di centinaia di auto al giorno nella periferia nord di Barletta, è tornato in funzione. Lo testimoniano le immagini con file di auto e mezzi pesanti nuovamente regolamentate dall'alternanza di verde, arancione e rosso sulle colonnine luminose. Lo ha spiegato una nota emessa dall'amministrazione comunale. A causa di due avarie, si legge, a una delle lampade alla centralina il sistema era in tilt. Sul posto sono intervenuti nuovamente i tecnici di Barsa e di una ditta specializzata, ripristinando il corretto funzionamento dell'impianto. L'intervento è stato realizzato nella giornata di martedì 8 gennaio, poche ore dopo il servizio di Telesveva, nel quale era stata fatta luce sulle proteste di diversi residenti automobilisti in transito, che per giorni erano stati costretti ad affidarsi alla segnaletica orizzontale e al buon senso, in un'area nella quale spesso si viaggia a velocità più elevate rispetto a quanto previsto sulle strade urbane. Semaforo verde, è il caso di dirlo, come quello che si attende per la rotatoria sostitutiva dell'incrocio semaforico, inclusa in un calendario di interventi dal costo complessivo di mezzo milione di euro, la cui consegna è attesa per la prossima estate.